dagli atti degli apostoli salpati da pafo paolo i suoi compagni giunsero a perge in panfilia ma giovanni si separò da loro e ritornò a gerusalemme essi invece proseguendo da perge arrivarono d' antiochia in pisidia e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato sedettero dopo la lettura della legge dei profeti i capi della sinagoga mandarono a dire loro fratelli se avete qualche parola di esortazione per il popolo parlate si alzò paolo e fatto cenno con la mano disse uomini di israele e voi timorati di dio ascoltate il dio di questo popolo di israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'egitto e con braccio potente li condusse via di là quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto distrusse sette nazioni nella terra di canan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni dopo questo di del loro dei giudici fino al profeta samuele poi essi chiesero un re e dio di del loro saul figlio di chies della tribù di beniamino per 40 anni e dopo averlo rimosso suscitò per loro davide come re al quale rese questa testimonianza ho trovato davide figlio di esse uomo secondo il mio cuore egli addempirà tutti i miei voleri dalla discendenza di lui secondo la promessa dio inviò come salvatore per israele gesù giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di israele diceva giovanni sul finire della sua missione io non sono quello che voi pensate ma ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali dal salmo 88 canterò in eterno l'amore del signore canterò in eterno l'amore del signore di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà perché ho detto è un amore edificato per sempre nel cielo rendi stabile la tua fedeltà canterò in eterno l'amore del signore ho trovato davide mio servo con il mio santo olio l'ho consacrato la mia mano è il suo sostegno il mio braccio è la sua forza canterò in eterno l'amore del signore la mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua fronte egli mi invocherà tu sei mio padre mio dio e roccia della mia salvezza canterò in eterno l'amore del signore dal vangelo secondo giovanni dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli gesù disse loro in verità in verità io vi dico un servo non è più grande del suo padrone né un inviato è più grande di chi lo ha mandato sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica non parlo di tutti voi io conosco quelli che ho scelto ma deve compiersi la scrittura colui che mangia il mio pane alzato contro di me il suo calcagno ve lo dico fin d'ora prima che accada perché quando sarà avvenuto crediate che io sono in verità in verità io vi dico chi accoglie colui che io manderò accoglie me chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato